La profezia si presenta sotto le spoglie di un giovane assassino, il commissario Jakov Jurovski. Nella notte del 16 luglio 1918, sveglierò l'ex Zara e la sua famiglia. Darò l'ordine di preparare i bagagli per la partenza. Li condurò nello scantinato e gli ordinerò dei disporsi per una fotografia di notifica. Dopodiché, chiamerò il comando. Nel nome della rivoluzione, il Soviet Supremo vi condanna a morte. La sentenza verrà eseguita seduta stante. Pronti per il fuoco? State indietro? Coccosa. Coccosa. Preparatevi per il fuoco. Puntate. Puntate. Fuoco. Puntate. Grazie per la visione! Grazie a tutti!